CS 2010 Las Vegas, siamo ancora con Emilio Frattaroli, direttore di AV Magazine. Emilio, puoi raccontarci che evoluzione ne ha avuto display e lettori Blu-ray per quanto riguarda la fruizione dei contenuti? Sì Paolo, una delle grandi novità più interessanti di questo CS Show è appunto il proliferare di hardware e unità di elaborazione all'interno dei televisori e dei lettori Blu-ray che permettono di accedere a contenuti online ma non solo in streaming ma anche applicazioni che permettono per esempio di avere addirittura Skype sul televisore come LG Electronics che addirittura ha una videocamera integrata oppure come i televisori Panasonic che permettono di aggiungere una videocamera esterna oppure a tantissimi altri applicativi anche piuttosto sofisticati da aggiungere e da scaricare sui vari televisori in cui alcune aziende hanno basato addirittura una campagna di marketing molto interessante come Samsung che ha inventato un nuovo marchio app per una nuova linea di televisori presentata appunto in questi giorni lo stesso tipo di applicativi e di filosofia può essere ritrovata in alcuni lettori Blu-ray che in realtà non è proprio una novità perché avevamo già visto questo tipo di possibilità in alcuni lettori Blu-ray di qualche mese fa ad esempio un lettore Blu-ray LG disponibile anche sul mercato italiano d'altra parte questo nuovo tipo di possibilità ha senso se c'è un provider di contenuti che rende disponibili questi contenuti estremamente interessanti e soprattutto se si ha a disposizione una banda di accesso a internet adeguata a scaricare contenuti un'altra cosa interessante a proposito di contenuti in alta definizione è la dimostrazione che abbiamo visto nella suite di Dolby al Wynn in cui ci hanno fatto vedere appunto lo stesso contenuto in alta definizione la fattispecie era il film in alta definizione Star Trek l'ultimo sia in Blu-ray e poi in streaming real time in alta definizione e vi assicuro che praticamente non c'era differenza e vi assicuro che abbiamo visto